Serve un play me. La Spagna lavora alla naturalizzazione di Lorenzo Brown. Tante cose da dire ho io su questo. Tante, tante cose da dire. Tante cose sulla Spagna, tante cose sull'Italia in relazione però sempre a questo discorso della Spagna. Tante cose anche su ex dirigenti di nostro basket in relazione sempre a questo discorso, giocatori, naturalizzazioni, che gente. Tante cose. Però poi ho detto siccome il periodo già è un po' quello che è tra i video NBA, demonetizzazioni, problemi e cose. Ho detto facciamo un po' una scelta, cominciamo a defennare tutte quelle cose, non dico correlabili, ma insomma problematiche. Cominciamo un attimo a toglile e quindi sigla. Milano contro Reggio Emilia Momento della verità Ora, la serie è inutile stare qui a raccontarsela. La serie fondamentalmente non c'è stata. Ci sono dei meriti di Milano, ci sono dei demeriti di Reggio Emilia, ma fondamentalmente il fatto è che la differenza di base tra queste due squadre era talmente tanta in questo momento, soprattutto della stagione, che la serie non si è giocata. Al di là del risultato è di 3-0. Cose positive per Milano. Cose positive, allora, il fattore campo intanto nella semifinale prossima serie. Poi, il fatto di aver vinto 3-0 e quindi avere più giorni per poter preparare la prossima serie, magari recuperare un attimino, e qui si va all'altra cosa positiva, il ritorno di Niccolò Melli, pare da quello che si dice, da quello che si legge, che potrebbe addirittura esserci già in gara 1, e basta. Cose negative, invece, per Milano in questo momento, la famosa mancanza del centro alto, lungo, brutto, grosso e cattivo è contro la squadra che ha il miglior centro di campionato, quindi potrebbe essere acuito ancora questa mancanza di lungo, e le voci di mercato. Più che altro le voci di mercato. Perché già in questo periodo è tutto un chiacchiericcio tra quelli che vanno, quelli che vengono, quelli che tornano, quelli che soffrono, è un macello. Non fanno del bene tutte queste voci, soprattutto a stagione ancora in corsa. Ora, tra le principali, insomma, le più importanti, esce quella del Ciaccio, che pare che dai prossimo anno torni in Spagna. Posso dire una cosa, tanto per cambiare, scomoda, che vi farà chiudere probabilmente a molti di voi il video. Io non credo che tra 50 anni, tra i grandi campioni che hanno fatto la storia dell'Olimpia a Milano, ci si inserirà il Ciaccio Rodriguez. Se davvero dovesse finire qui l'esperienza dei Ciaccio a Milano, poi mi sbaglio, sicuramente mi sbaglierò. Però, boh, quest'amore tra me e i Ciaccio, il povero Ciaccio, non è mai sbocciato. Aggiungo una cosa su Messina, l'unico appunto che mi viene da fargli in questa serie. Io avrei optato un po' di più per dei minuti a Troy Daniels, al netto delle condizioni fisiche. Cioè, ma avrei provato a farlo giocare un po' di più perché è tuttora, è passato un anno, e quindi non ci sei ancora capito nulla. Cioè, è forte o non è forte, Troy Daniels? Dopo un anno intero, è forte o non è forte? Non lo so, di sicuro non è Joseph. Forte. Poi, ritorni. Questa serie è stata un po', se mi consentite, un bug del sistema, nel senso in cui è stata una roba che non doveva capitare nelle dinamiche in cui si è avviluppata. Perché, paradossalmente, se Reggio fosse arrivata un pochino sotto in classifica, quindi avesse fatto un pochino peggio e fosse arrivata nonna, per dire, no? E non avesse fatto i play-off, avrebbe chiuso in maniera quasi un pochino più limpida. Il che è paradossale, è sbagliato, è illogico, perché, no, se sei arrivato meglio, hai fatto meglio, sarà meglio. Sì, però, questa risciacquata ha gettato qualche ombra lunga in più su questa stagione, che non ci deve essere, perché, ragazzi, è una stagione positiva. Vi dirò di più, molto positiva. Se, pur da caso, ci fossero stati Kandi, Olisevicius e Diouf, sarebbe cambiato il risultato finale, ma una, secondo me, il Reggio la portava a casa, ma proprio senza dubbi. Voglio di due, ma, insomma, una senza dubbi. Detto questo, ritorni, si diceva, a inizio di paragrafo, il ritorno di Reggio Emilia ai play-off, il ritorno di Cincerini al Reggio Emilia, preludio, pare, del ritorno di Menetti al Reggio Emilia, che potrebbe riformare la coppia con i Cincerini il prossimo anno. D'altra parte, volevo dire, chi l'ha detto che con le vecchie glorie un ci si vuole divertire? Anzi. Tortona contro Venezia. Capolavoro, ennesimo e assoluto, aggiungerei, perché nonostante il fatto che Tortona si presentasse a questa serie da testa di serie numero 4, e quindi ipotetica favorita contro la Reier numero 5, secondo me non lo era nella maniera più assoluta favorita, perché la differenza di esperienza tra queste due squadre, tra questi due progetti, era tale che, no? E invece Tortona è riuscita a avere la meglio. Tra tutte le serie giocate che si stanno per giocare fino ad ora, secondo me Virtus contro Tortona sarà la più interessante, perché è un anno intero che io vado predicando il fatto che Tortona ha tuttora del potenziale inespresso, cioè col roster che ha potrebbe giocare ancora meglio. Uno dice, ma come? E di finali, di finali, di semifinali, di tutte le competizioni che ha giocato, playoff, superato il primo turno da Neopromos, cioè avranno dato tutti il 110% delle loro potenzialità per poter arrivare... Invece no, secondo me c'è ancora un po' di margine di manovra. Ciò non toglie e la favorita resta la Virtus, e comunque vada a finire questa serie, anche se dovesse finire 3-0, cosa che io non credo assolutissimamente, nulla toglierebbe alla stagione fantastica di Tortona. Anche un ipotetico 3-0 avrebbe l'impatto sulla stagione di Tortona che ha avuto più o meno Elmar Varr Friedriksson. Dice chi? Eh, appunto. Boh, ehm... Boh, io non... Cioè a me questa stagione di Venezia mi è sembrata tutta un controsenso, ma proprio... Tutto, tutto, tutto. Anche all'interno di questa serie, cose sparse che mi vengano in mente. Tonut ha fatto 30 punti in una partita, tra l'altro persa, da Venezia, e poi 26 sommando insieme tutti i punti di tutte quelle altre parti. Cioè in una partita ha fatto più punti e in tutte quelle altre sommate tutte insieme. Jordan Theodore, che a un certo punto è sembrato, è stato per buona parte della stagione, l'uomo della provvidenza per questa Reier-Venezia, che nella partita decisiva, nel momento decisivo, prima non si accorge che scade il tempo, e rimane con il pallone in mano, e poi l'azione dopo fa palo su una tripla dall'altro. L'uomo della provvidenza è questo. Austin Day, che a un certo punto ha telefonato Anthony Davis, ha detto, oh, ma questo è sempre rotto, e che fa? E anche lui non si accorge. Non lo so, io sono sincero, non ci ho capito niente in questa stagione. E credo di non essere stato neanche il solo a non capirci niente, perché dalla televisione a un certo punto, in gara 4 decisiva, si sono proprio sentiti nitidamente i cori della tifoseria ospite al taliercio. Al taliercio, dalla televisione, quindi mi immagino a essere... Non lo so, non lo so. Volete ancora altre cose? Un anno intero a dire è la fine di un cerchio, è l'era che si chiude, è la fine... Ieri escono l'articolo di Raffaele confermato al 99%. Ma com'è confermato al 99%? Boh, boh, è l'unica cosa. L'unica, beh, vuoi trovare una cosa, penso, certa, visti i nomi di mercato che stanno venendo fuori, si parla di Handi, si parla di Moraschini, penso che l'unica cosa certa a questo punto sia che Vitali voglia tornare a fare Gemmon, credo, e quindi non possa rimanere. Gemmon, no, il cantante, è quello di Lupin, che ha i capelli uguali. Virtus Bologna contro Pesaro. Pressione! La Virtus è, penso a furor di popolo, la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. Chiaramente non sarà facile, però si approccia a questa semifinale con questo tipo di pressione addosso. Questa serie è stata vagamente più vera rispetto a quella di Milano contro Reggio Emilia, non troppo, ma comunque un po' sì. Le cose saranno molto diverse con Tortona e penso che potranno avere un impatto positivo o negativo, a seconda di come andranno, anche eventuali assenze o rientri o ritorni o infortuni e cose varie. Dico una cosa, invece, sulla questione Daniel Ahead, perché tanto so che altrimenti me la chiederete. Non la dico per riaprire una polemica che mi sembra già bella ampiamente chiusa, fortunatamente lui ha fatto un gesto, poi ha chiesto scusa, mi sembra di aver capito che le scuse siano state accettate, quindi, fine, la dico per esprimere un concetto, un parere personale generale su vicende di questo tipo che ogni tanto capitano. Idea mia, se io facessi un uno contro uno contro il mio migliore amico d'infanzia, Petrucci, mettiamo, no? Non è che tutte le volte che fa un canestro non esurto perché quello è il mio migliore amico d'infanzia, anzi, è proprio dando il 100%, è proprio anche esultando, facendogliela pensare, che io dimostro il mio rispetto massimo nei confronti di Petrucci. Al di là di Achet e di questa cosa qui, in generale, la mia idea. Punto di partenza, perché Pesaro ha perso, ha perso 3-0, numeri alla mano ha perso anche bene, però intanto ha comunque mostrato una maggiore resistenza rispetto, per esempio, a Reggio Emilia contro Milano, che si diceva prima. Poi comunque, in ogni caso, ai play-off c'è tornata, dopo una vita, ha pescato quello che secondo me è il miglior straniero rookie, cioè il miglior straniero alla prima esperienza in Italia del nostro campionato, che è chiaramente Tyreek Jones, e ha riportato in Italia Luca Banchi, sul quale pare, pare, ai momenti in cui sto registrando, che ci sia anche una timida possibilità di confezione. Difficile, complicata, timidissima, però comunque c'è una possibilità di conferma. Quindi è una stagione importante e punto di partenza, perché può essere per la prima volta quello che Pesaro sta faticosamente cercando di fare dai tempi di Pesaro, cioè provare a togliersi dalle sabbie mobili di quelle squadre che pensano fino a giugno, con il limite proprio temporale delle squadre che si devono salvare, e quindi tirano fino a giugno, e prova un attimo a avere un'ottica un pochino più ampia, un pochino più generalizzata, cioè prova a mettere in piedi, non ti dico, dei progetti pluriennali, ma comunque un punto di partenza anche verso, no, il futuro. È dai tempi di Perego che ci si prova, non è andata particolarmente bene con Perego, quest'anno, cioè potrebbe, no, sembrerebbe che i tempi siano maturi per provare a dare un'accelerata, eh? Ce ne so, tutti i segnali, mi sembra. Brescia contro Sassari. Due momenti della serie di Brescia, gara 2 e gara 3. Gara 2, alcuni dettagli di gara 2, il fatto che Magro, secondo me, sbagliando, ha preferito Moore in rotazione al posto di Moss, io in una partita di playoff Moss lo vorrei sempre dentro, sempre in campo, tutti i minuti che vuole stare fino a che gioca, anche ora che non ha più capelli, e poi le disattenzioni di gara 2, 50 secondi dalla fine, nel momento più importante, nessuno taglia fuori Barnell, che arriva, la tocca, fa canestro, subisce il fallo, tiro libero e chiude di fatto la situazione, secondo momento, chiaramente, gara 3, l'infortunio di Della Valle. In questi due momenti qui, probabilmente, Brescia ha perso la serie. Nulla toglie questo alla stagione straordinaria che ha fatto Brescia, nulla toglie questo a Nas Mitrulong, che per la prima volta da tantissimi anni a questa parte in gara 4, mi ha dato proprio la sensazione di predominio totale, assoluto, sulla partita da parte di un esterno che io non avevo dai tempi di lingrir a Napoli, mia memoria, proprio quella sensazione lì, da un punto di vista proprio emotivo, istintuale, proprio epidermico, a pelle, io l'ho avuta con Nas Mitrulong l'altra sera dai tempi di Grir a Napoli e poi invece leggo tante polemiche e tante critiche nei confronti di John Brown. Bisogna fare un discorso secondo me su John Brown. È chiaro che se pigli un giocatore a gennaio c'hai anche modo e tempo di poterlo inserire all'interno dei giochi soprattutto a livello offensivo. Se tu lo pigli a aprile è un pochino più complicato e questo è uno dei motivi per i quali Brown in difesa ha dato più o meno quel che poteva ma in attacco di fatto non c'è stato in questa serie è mancato è mancato parecchio. Il fatto è che a aprile c'hai avuto l'opportunità di prendere Brown a gennaio sui mercato c'era boh Miles Carter di Brindisi probabilmente a gennaio solo che in quel caso lì quello Arto che pigliava la roba Arta dagli scaffali già c'era che era eboa e quindi non aveva senso aggiungere anche Miles Carter nel ruolo. La storia infinita la stagione era cominciata sotto questi presupposti Sardar aveva detto bada che questo è il mio ultimato non ne voglio sentire parlare in campo c'erano Clemmons Mehovulu e in panchina Cavina male che vada se proprio ora va tutto peggio del peggio finisce in semifinale ora ditemi voi chi è che poteva immaginare ovvio che le questioni russe ucraine hanno dato una mano in un certo senso per tutte le cose che sappiamo situazioni che si sono venute a creare però ragazzi veramente io cioè ci deve essere qualche cosa in terra in terra sarda sarà nell'aria sarà nell'anipane carasà o non lo so i che c'è c'è qualcosa che proprio fa del bene al basket fa del bene alla palla canestro io pensavo che si dovesse arrivare a gara 5 contro Brescia forse senza l'infortunio della valle ci sarebbe arrivati però tutti tu una roba tutti i tifosi di Sassari qui sui canali ma proprio tutti mi hanno detto Edo vada che a Sassari e non ne vince nemmeno una Brescia cioè non so tutti voi mi hanno detto quante ne vincerà prima ma a Sassari finisce 2-0 e così è stato che vi devo dire mi confermate che nel frattempo a Kazan Spissu è come Doncic a guardare la partita nei tablet dopo l'allenamento una cosa che chiude velocemente c'è una possibilità siccome giovedì sera ho cose che non vi posso dire che scoprirete tra un po' c'è una possibilità che il gruppo di recupero venga aggiornato o domani sera addirittura così esce comunque anche quasi gaming ma in serata verso le 6 e mezzo potrebbe oppure giovedì però prima tipo verso le 3 e mezzo orario sabato di quasi gaming però giovedì il gruppo di uno so fatto per dirvelo voi tenete d'occhio Instagram che le comunicazioni flash rapide sull'ultima ora vengano date lì è un cardo che ci stianta ho dei capelli che non si possano guardare direi basta che ci stai